Dovrà comparire il 27 marzo davanti alla corte d'assise di Chieti Giulio Cesare Morrone accusato di aver ucciso la moglie Teresa Bottega nel marzo del 1990 nella loro casa a Spoltore al termine dell'ennesima lite. La sua colpevolezza è emersa nei mesi scorsi grazie alla testimonianza indiretta di un uomo che si è rivolto per dovere civico alla squadra mobile di Pescara raccontando di aver saputo dell'omicidio dal padre spirituale di Morrone al quale Luxo Ricida aveva raccontato il delitto. Partendo da quel racconto gli investigatori hanno riaperto il caso archiviato all'epoca come scomparsa volontaria. Morrone ha già ammesso di essere lui l'assassino e di essere stato sempre lui a disfarsi del corpo della moglie 35enne caricandolo in macchina e gettandolo poi in un fossato in provincia di Ferrara dopo aver vagato per ore in autostrada. Il corpo della donna non è mai stato ritrovato. Il corpo della donna non è stato ritrovato.